Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? Il gossip dopo il GF VIP Grande fratello VIP, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono fidanzati? Indizi e gossip. Sono davvero tanti i fan del grande fratello VIP che avrebbero voluto vedere Luca Onestini fidanzarsi con la bellissima Ivana Mrazova. In ogni caso, anche nel corso della finale, i due hanno sottolineato di essere legati da una semplicissima amicizia. Lei si è sempre dichiarata fidanzata e non ha mai pensato di tradire il suo uomo. In ogni caso, le cose potrebbero essere cambiate. La modella cieca ha infatti parlato del suo ragazzo sempre molto bene, ma allo stesso tempo non ha mai nascosto di non sapere che cosa sarebbe successo una volta fuori dalla casa più spiata dItalia. La loro storia d'amore era infatti ancora molto giovane e la stessa Deffina non ha mai negato che sarebbe potuto accadere davvero di tutto. Luca Onestini e Ivana Mrazova insieme dopo il grande fratello VIP? Tutti gli indizi. Luca e Ivana hanno trascorso insieme una bellissima serata. Insieme ai due ragazzi c'erano anche Aida Jespica e Raffaello Tonon. Dopo la registrazione di Verissimo, infatti, alcuni ex del grande fratello VIP si sono incontrati per una cena insieme. In un video apparso su social, la Jespica ha chiesto ai loro fan cosa ne pensassero della coppia formata da Onestini e la Mrazova. In ogni caso, la venezuelana potrebbe aver semplicemente scherzato, ripensando soprattutto al video che Ilari Blasi ha mandato in onda durante la diretta della finalissima. A catturare l'attenzione è poi stato un post di Paola Caruso, che da ormai diverse settimane ha palesato davanti a tutti il suo interesse nei confronti del bellissimo ex-tronista di Uomini e Donne. Grande fratello VIP, la verità su Luca Onestini e Ivana Mrazova. Paola Caruso si è sfogata su social, dichiarando di non aver messo gli occhi su Onestini solo per far parlare di sé. Di fronte alle critiche ricevute, la ragazza si è anche lasciata andare ad una curiosissima rivelazione. E chi ora ha capito che la gente apprezza Luca guarda caso si è lasciata e? Che la Caruso abbia fatto forse riferimento alla Mrazova? Staremo a vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.